No, 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 no. E così siamo arrivati, capito, pure al governo di Bettino Craxi siamo arrivati. E noi non facciamo altro che parlare, parlare, parlare. Sì, parlare, fammi parlare, dammi una seconda. Cinque partiti che litigano uno con l'altro, sono c'è domocratici, liberali. Fuma almeno così non parli, lasci farlo. Ah, io fumo, sì, fumo. Perché mi interesserebbe sapere che cosa pensano loro? Allora chiediamelo, Annella, che cosa ne pensi? Un governo di Bettino Craxi con cinque partiti? Dimmelo, secondo me, è il compromesso storico. Ma lo dici così? Esatto, è una tragedia, è il compromesso storico. Annella, da quando hai ereditato questa villa tu non sei più la stessa, Annella, io sono storica di te. Ma che cosa c'entra che hai ereditato la villa? Ma come sei stronza, veramente? Hai discusso che facevamo un tempo, ma come? Ma tu non le dici niente? Samu, dille qualche cosa. Ma anche te non le conosco più. Non è così la vita. Oppure vogliamo dire di Buñuel che muore di arresto cardiaco per quello che succede? E muore Buñuel, l'ingegno del studio. Ah, Buñuel, il cinema non risolve tutto. Il cinema è uno specchio della realtà. Sì, è una cosa da molti divorpetti che siamo chiusi. E trasmettono il fantasma della libertà con continua interazione. E la so, anche io adoro. E chi non adora Buñuel, ma fammi il piacere. Sentiamo un po' quello che dice lui. Ma cosa vuoi che ne sappia di questo paese lui? Guarda, di qualcosa, di qualcosa. Un'impressione. Un'impressione ce l'hai? Ma lui è americano, amore, è americano. Americano non vuol dire stupido, comunque. Un'impressione, è americano. Perché? Perché il corpo ha detto che... Perché un marito è americano. Ha ragione. Hai una punta di rossa. Sono sempre stata molto, molto, molto stronta. Sì, sì, molto stronta. Allora, non ha detto che il cupido... Ma perché devi capettare le parole? Allora, faccio la pazza, faccio la pazza. Vabbè, preferisco fare la pazza. Che cosa è successo? Samuel, che cosa è successo? Che è successo? No, non è niente, succede sempre. Ma fa una ghiaccia? E che di mia alba dentro ha freddo? 15 anni, non è mai successo che così. Vi state abituando a tutto, davvero. Bebe! Ma ti rendi conto che fai un mescolone di tutti gli argomenti? Ma quale melma? Di che cosa parli? Non c'è più lotta politica, non c'è più niente. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Non c'è più niente, non c'è più niente, non c'è più niente.